sognando di indossare la maglia scudettata. Per quanto riguarda invece la finale scudetto maschile, grande appuntamento questa sera con la gara 4 tra Civitanova e Trento, diretta su Rai Sport HD dalle 20.20. È una partita che può assegnare il titolo, si gioca nelle Marche. Lì per noi c'è Simona Rolandi. Simona. Buon pomeriggio dall'Eurosuole Forum di Civitanova, Marche dove oggi va in scena il primo e forse l'ultimo momento decisivo della finale scudetto Trento, avanti per la 2-1 su Civitanova che punta la rimonta, sostenuta da 4.000 spettatori, ma non da Ivan Zaitz aveva infortunato, al suo posto molto probabilmente Bottolo. L'ho ascoltato per noi Maurizio Colantoni nel suo servizio, lo vediamo insieme, poi la Lina può tornare allo studio. Il primo match point della stagione, il primo appuntamento con lo scudetto, il primo vero brivido di una finale memorabile, quella del campionato più bello di sempre. Trento arriva avanti nella serie, non ha fatto respirare Civitanova, e si è costruita con grandi giocate e convinzione la chance verso il titolo, quello scudetto che manca dal 2014-2015. Non bisognerà però sottovalutare la reazione dei tre volte campioni d'Italia, capaci di rovesciare le difficoltà, come con Verona e Milano. L'handicap c'è però, perché Ivan Zeiser rimarrà fuori, infortunato e coach Blengini dovrà rivoluzionare di nuovo la squadra. Davanti al tutto esaurito sarà l'occasione per il giovane campione del mondo, Mattia Bottolo, quella di scendere in campo. Ci aspetta gara 4, una gara importantissima per noi, perché dobbiamo assolutamente provare ad allungare la serie, non solo dobbiamo farlo per noi, ma dobbiamo farlo per tutta Civitanova, che ha risposto presente, ha risposto con un soldato e palazzetto, e ci darà una spinta incredibile, noi ci siamo, noi non vediamo noi giocare. Il tricolore per Trento oppure la bella per Civitanova? Queste sono le due strade verso lo scudetto. Blengini chiederà la gara della vita ai suoi ragazzi. Trento avrà la spinta in più, con Kosciolo Renzetti e Mattei Casischi, che vorranno salutare Trento. Con il tricolore, il match si annuncia intenso, senza respiro, spettacolare di quelli dove nessuno si potrà risparmiare. Bisognerà dare l'anima per arrivare fino in fondo. Ci spostiamo agli esolo per l'Italian Open Meeting Internazionale di Atletica.